La Grandi è una vecchia casa di spedizione familiare, fondata nel 1828, quindi sono la quinta generazione. E noi siamo stati i primi italiani a costruire una nave portacontenitore, l'Avento di Levante, che è entrata in linea esattamente 50 anni fa. E adesso stiamo studiando con un gruppo di operatori genovesi e col Politecnico di Torino, City, Compagnia di San Paolo, uno studio per uno sviluppo portuale di tipo non tradizionale, in quanto il salto tecnologico del settore è tale che le soluzioni tradizionali non reggono, gli spazi disponibili oggi non sono sufficienti. C'è questo progetto che è abbastanza interessante, cerca di coniugare gli alti fondali del terreno con gli spazi limitati da pianura padana, collegandoli funzionalmente, non così. E speriamo che il governo se ne accorga, che capisca l'importanza e lo porti avanti. Beh, spesso arriva dopo. In più la politica spessa ha interessi diversi. C'è da dire che qui oggi la politica non ha più fondi e questo progetto non chiede fondi perché facendo un salto tecnologico si autofinanzia. E forse in questa situazione può darsi che sia più gradito.